Cari amici di Telebelluno, bentornati al Semibreve, notte dal Festival Accademia di Nociani 2012. Oggi siamo qui in cima al Monte Lagazzuoi e fra poco ascolteremo il concerto del Quartetto Gerard all'interno del Rifugio. Saranno poi i nostri ospiti uno dei protagonisti di questo concerto e anche il proprietario del Rifugio Guido Pompanin. Grazie a tutti. Guido Pompanin, ci spieghi il motivo per cui il suo rifugio ha aderito a questa iniziativa del Festival Accademia di Nociani 2012? Abbiamo aderito volentieri, innanzitutto per l'amore per la musica, sia classica che in generale, e poi perché pensiamo che sia giusto aderire alle iniziative di Cortina e in generale nelle Dolomiti. Michele ha suonato la viola durante questo concerto. Come ti è sembrato? Com'era l'atmosfera oggi al Rifugio Lagazzuoi? È un bellissimo posto, il panorama è bellissimo e anche si mangia molto bene, veramente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti